Sì, l'agenzia multidisciplinare significa che il cliente, il cittadino, avrà un unico interlocutore, entra in agenzia e oltre al servizio prioritario e principale dell'intermediazione immobiliare, quindi dell'accompagnare il cliente a comprare o vendere case, assistolo in tutte le successive fasi della compra-vendita, si potranno affiancare tutta una serie di servizi strumentali e collaterali all'attività prioritaria di intermediazione. Per esempio, poter fare l'attività di amministrazione condominiale, per esempio l'attività di consulenza del credito, per esempio poter gestire le locazioni dal punto di vista dei servizi collaterali alle stesse, quindi tutta una serie di attività che verranno attuate attraverso collaborazioni sinergiche interne e esterne.